Prima di cominciare, vi ricordiamo che il 25,2% degli utenti di Youtube che stanno guardando i nostri video si sono iscritti al canale. Quindi signori, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, e mettete mi piace immediatamente. E adesso via con il video, e buona visione. Ciao a tutti cari signori di MDN, e benvenuti in questo nuovissimo video di Vimeleicl, con la richiesta di Christian Mattia 2004. Italian Green, viaggio nell'Italia sostenibile, è un rotocalco televisivo dedicato al mondo Green, in onda dal 16 aprile 2022 su Rai 2. Star Bene, è un rotocalco televisivo dedicato al mondo della salute e del benessere, in onda su Rai 2 dal 14 maggio 2022. Auto Collision, è un programma televisivo documentario dedicato al mondo dei motori, in particolare alle auto d'epoca, in onda dal 14 maggio 2022 su Rai 2. E con questo nuovissimo video è tutto, ciao a tutti cari signori di MDN, e alla prossima. Grazie. Grazie.